Buonasera, rieccoci alla seconda parte di Primus Interpares, il consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7, vi ricordo che siamo in onda anche in diretta sulla pagina Facebook. Nella prima parte abbiamo avuto il candidato sindaco Massimo Vittonci, questa seconda parte abbiamo l'ultimo dei sette candidati per le amministrative di Padova, Sergio Giordani. Buonasera Giovanni, come va? Molto bene, diciamo che il piccolo infortunio che mi è capitato mi penso anche di fare 20 giorni di riposo, ho conservato un piccolo ricordo che spero a breve... Un po' alla volta passa insomma, no? Sì, un po' alla volta, l'importante è che qui dentro sia tutto a posto e non c'è nessun problema. E non c'è dubbio su questo. Prima di iniziare lei avrà un minuto e mezzo come gli altri candidati per poter rispondere a domande, ci sarà un gong poi lo stop finale e cerchi di terminare nel tempo a lei dovuto. Prima però di iniziare con il tempo, la prima domanda che ho fatto a tutti i candidati, ovviamente la faccio anche a lei, ma chi gliel'ha fatto fare? Lei è un imprenditore, sta bene, ha una bella famiglia, ha avuto successo come Presidente della Scuola di Calcio nelle sue attività, nei suoi lavori, l'interporto, ma chi gliel'ha fatto fare? Io penso che sia giusto che ognuno di noi dia qualcosa alla propria città. Io amo questa città, ma l'amo veramente nel senso letterale del termine. Quando ho avuto le primi proposte, parlo di primi di gennaio, fine dicembre, devo dire che l'avevo scartata. Però poi ho capito e la mia famiglia era abbastanza anche d'accordo che bisogna dare qualcosa alla città. La mia città mi ha dato benessere economico, mi ha dato un po' di notorietà, mi ha dato un sacco di opportunità che io ho cercato anche di sfruttare. Io ho detto proviamo, proviamo a fare questa avventura. Io spero che vada bene perché vorrei veramente cambiare questa città, trasformare questa città in una città europea. Questo è il mio sogno. Bene, noi facciamo un in bocca al lupo perché ciò accada. Io cerco di essere imparziale come tutti gli altri, ovviamente. La vedo bene, sono contento perché la vedo bene, perché dopo tutto quello che si diceva, Giordani sta male, Giordani di qua, Giordani di là. Io ho avuto una fortuna incredibile. Primo c'era un medico, un dottor Zuccarato in sala che ha capito subito il problema. Poi la seconda fortuna è che il Padre Eterno non era la mia ore e poi abbiamo una sanità che, devo dire, io non l'avevo mai provata nel senso personale. È una sanità che abbiamo eccezionale. Ha detto prima di diventare sindaco provo che è quella, no? Esatto, mi sono chiarito l'idea. Ha chiarito l'idea, hai chiarito l'idea e quindi ha capito tutto. Certo, certo. Va bene, cominciamo seriamente invece ad andare ad affrontare i problemi e le problematiche della città di Padova che sono davvero tantissime. Lei avrà il minuto e mezzo, come le ho detto prima. La prima è, per quanto riguarda la prima domanda, l'immigrazione. Cosa farà se diventerà sindaco? L'immigrazione. Noi stiamo attraversando un periodo epocale, è un grosso problema. Noi siamo uno dei paesi più soggetti all'immigrazione solo perché abbiamo un problema, non abbiamo confini. Ma al di là di non avere confini, noi, a mio parere, dobbiamo accogliere queste persone. Dobbiamo accogliere e dopo averle accolte far sì che lavorino, che diano qualcosa alla nostra comunità. Tutti sanno, costano 35 euro al giorno, è il costo del loro mantenimento. Io penso che l'accoglienza diffusa risolva questi problemi. Il rapporto con le istituzioni, col prefetto, col questore, si risolvono le cose. Certamente non è una cosa facile, assolutamente, però ragionando tutti insieme io penso che si trovi la soluzione. Anche perché non è che abbiamo in questi ultimi due anni e mezzo risolto il problema, anzi ne abbiamo di più degli altri. Io penso che la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale. bene, abbiamo anche terminato i 15 secondi. Sentirà il rumore del suono che arriva. Eccolo qui, magari se riesce a sfruttare bene il tempo a disposizione può dire più cose. Attendiamo anche lo stop. Un altro tema importante per la città e sicuramente i cittadini ne hanno oggi più che mai bisogno, è anche una sicurezza, anche una certezza da parte del sindaco, è la sicurezza. Lei, se diventa sindaco, cosa farà per quanto riguarda la sicurezza in una città come Padova? Io ho detto all'inizio ancora della campagna elettorale che mi prenderò la dele alla sicurezza, perché io penso che il sindaco debba essere responsabile della sicurezza della città in prima persona. Non è possibile che i miei cittadini abbiano paura di uscire di casa, perché c'è un problema di sicurezza. La sicurezza va espletata in tantissime maniere, con la polizia, con i vigili urbani, con le telecamere. Va fatta un'azione anche nei quartieri di rigenerazione. Mi spiego meglio. Ci sono quartieri in cui non sono molto puliti, l'erba è alta, ci sono fenomeni di spaccio. In questo caso qua, anche con la collaborazione dei cittadini, che ho visto a Milano funziona perfettamente, devono chiamare le forze dell'ordine per intervenire. Io non posso pensare che la città abbia paura, proprio non ci credo. E quindi a 19 secondi? No, di conseguenza farò di tutto quello che è possibile per attivarla. Telecamere, sicurezza, vigili urbani, polizia, consigli di quartiere per trovare la soluzione, sfalcio, qualsiasi cosa? Perché è un diritto del cittadino essere tranquillo e sicuro. Lei ha paura di non riuscire a terminare domande nel tempo opportuno? Avanza anche del tempo? Io sono molto concreto. No, è vero, è molto concreto. Mi racconta tutto rapidamente. Per quanto riguarda la sicurezza, Padova ha controllato a molti quartieri, poi andremo a parlare anche degli altri quartieri, però il quartiere dove ci sono molti cittadini padovani è il quartiere dell'Arcella, dove c'è molta anche non cittadinanza padovana, anzi ecco, ed è uno dei quartieri dove i candidati sindaco hanno fatto qualcosa o faranno qualcosa per quel quartiere. Sergio Giordani cosa farà per l'Arcella? Io ho detto all'inizio che sarà delegato un assessore al quartiere dell'Arcella, perché il quartiere dell'Arcella è un quartiere che è il doppio come abitanti di cittadella, sfiora i 40.000 abitanti. È un quartiere che sicuramente ha problemi, non tutto, perché sono delle zone a posto, delle zone che hanno problemi. Io penso che in questo caso, per dare sicurezza, abbiamo fatto anche, devo dire, un programma specifico per questo quartiere. uno, far sì che i negozi siano aperti, è un grande deterrente per la violenza e il degrado. Punto due, ancora, bisogna che siano puliti, organizzati, bisogna fare lotta allo spazio, ci sono moltissimi spacciatori e ci deve essere la polizia locale che cammina a piedi, non in altre maniere, che sia collaborazione tra istituzione, parlo della polizia dello Stato, questura e visibili urbani. Deve essere un punto fondamentale. Illuminazione. Illuminazione, secondo me, infatti nei nostri programmi, è una delle cose principali, va fatto in maniera tale che tutta la città sia illuminata in maniera corretta a LED. Perfetto. Va bene, allora staremo a vedere anche la città, però pado anche altri quartieri dal Ponte di Brenta, Mortise, Bassanello, Voltabarozzo, nella zona di Cadone, da quelle parti lì, e quindi la città dice, noi non, e il centro ovviamente che è della città, va bene il sindaco dice, va bene la città, ma per gli altri quartieri cosa farà il sindaco se diventerà Sergio Giordani? Io, non tutti i quartieri hanno questi problemi, sono quartieri che stanno meglio, però l'illuminazione è di tutti i quartieri, la sicurezza è di tutti i quartieri, sono cose basiche, ad esempio, ho scoperto facendo mercati, facendo strade, andando un po' in giro dappertutto che uno dei problemi principali di Padova sono i marciapiedi, i marciapiedi, gli anziani, io ricordo che abbiamo una città che sta invecchiando molto rapidamente, abbiamo il 29% di persone superano i 65 anni, metà di queste superano i 75 anni, per cui in questi casi devono essere assolutamente messi in ordine i marciapiedi, le strade asfaltate, il sfalcio, lotta dell'elequenza, ripeto, l'illuminazione per quel che mi riguarda è fondamentale, come i vari parchi che noi abbiamo bellissimi, abbiamo dei bellissimi in tutti i quartieri, vanno sicuramente protetti, con i nonni vigili e incrementati, perché abbiamo veramente dei bei parchi cittadini. E quindi questo è sicuramente quello che dovrà seguire, anche se obiettivamente il quartiere come diceva lei, il quartiere della Cielo è un quartiere un attimino più delicato rispetto agli altri. E ovviamente per collegare tutti questi quartieri c'è anche il problema della mobilità, allora qui c'è un tram, tanti non lo vogliono più, tanti dicono va bene il filobus, non va bene più il tram, ecco il candidato sindaco Sergio Giordani cosa farà per la mobilità per la città di Padova? La mobilità è un punto fondamentale per Padova, ricordo solo che due anni fa APS questa mobilità ha perso un milione e mezzo di passeggeri, non funziona, perché è stato fatto qualcosa che non ha trovato riscontro nei cittadini, per cui prima cosa il tram continua senza ombra di dubbio, qualcuno ha proposto di togliere, penso sia una socchezza, però… troppo, ma nella sua, lei diventa sindaco, lei vorrebbe fare anche la seconda linea del tram? Io penso che vada valutato in la componente dei autobus, filobus elettrici, penso che io dovevo andare anche a Hamburgo a visitare, prima di questo incidente, visitare da vivo per capire, io penso che l'elettrico sia il futuro, ovviamente, con strade dedicate in modo tale da fare un salto di qualità, questo serve anche per l'inquinamento, perché l'inquinamento se non si combatte con la mobilità, se non si piantano alberi, se tutti gli edifici di Padova pubblici non passa il fotovoltaico, io penso che è difficile, ogni anno ci lamentiamo, in inverno perché abbiamo il PM10, il PM10 si risolve solo in questo sistema. Lei mi anticipa tutte le domande, io queste domande le devo fare dopo, se me le anticipa tutte mi rovina anche la trasmissione, mi sfalza la scaletta, non sto scherzando ovviamente. Allora parliamo della mobilità, lei ha detto che bisogna sistemare anche le strade, vi escovendo però la mobilità ha bisogno di una viabilità importante, Padova è una città un po' medievale quindi è un po' anche difficile fare una bella viabilità, però cosa farà per la viabilità Sergio Sondani e per le piste ciclabili? Le piste ciclabili per me sono importantissime, noi siamo una città che utilizza moltissimo la bicicletta, oggi sono 28 stazioni di bike sharing e la mia idea è di portarle a 100 stazioni di bike sharing, perché andare in bicicletta è sicuramente un vantaggio sotto l'aspetto di inquinamento, sotto l'aspetto della salute e la gente deve imparare. Noi abbiamo gli esempi di città del nord che vanno in bicicletta tutto l'anno, non solo di due o tre mesi estivi, per cui sicuramente uno dei miei obiettivi è portare il bike sharing a 100 stazioni e trapparensi non solo a Padova, ma anche ai comuni limitrofi. Però per fare le piste ciclabili, mi scusi, sicure, in sicurezza, le strade di Padova e della prima periferia di Padova non sono proprio l'ideale. Bisogna fare sì che i tecnici trovino una soluzione, secondo me non è difficile, basta circondarsi di persone capaci, secondo me queste cose qua si risolvono, perché la bicicletta oggi, d'altronde noi abbiamo una popolazione di studenti a Padova, sia universitari, sia di scuole medie e superiore, 100.000 studenti. È ovvio che ci sia la bicicletta, è ovvio che ci vuole rispetto reciproco e ovvio che va incrementato in tutto. Sicuramente, questa è una delle cose, io mi auguro di vedere Padova come Amsterdam, come Copenaria, dove la bicicletta, sarebbe davvero molto bello. Senta Giordani, uno dei problemi dell'Italia è la povertà su oltre 60 milioni di abitanti, il 10% è povero e ovviamente Padova, su questo target lei diventa sindaco, il sociale è un problema molto importante, cosa farà Giordani per il sociale? Io penso che il sociale sia il secondo punto in termini di priorità Padova, io non sono d'accordo con quello che è stato fatto in questi due ultimi anni, sono stati tagliati quasi 9 milioni di contributo sociale, per cui ne sono rimasti solo 15. Padova, ve lo dicevo prima, è una città in cui sono molti anziani e questi anziani vanno rispettati, tutelati, non vanno tagliate le telefonate amiche, non vanno tagliati i pasti caldi, l'igiene dell'anziano, lo sfalcio dell'erba, il nostro progetto è quello di, tramite associazioni volontari, portali a casa, medicina all'anziano e la spesa. Oggi la situazione della nostra città e della nostra qualità di vita è buona e anche perché la generazione passata ha contribuito moltissimo a questo. Poi non dimentico i disabili, i portatori identica, sono tutte cose che secondo me vanno al secondo posto perché una città civile deve investire in questo, non disinvestire, per me è prioritario. Non posso pensare a quello che è successo un paio di mesi fa, che abbiamo scoperto due anziani che sono morti e abbiamo scoperto perché c'era odore, discomposizione. Mi rifiuto di pensare a queste cose, non è da società civile.